Stamane l'apertura ufficiale dell'anno scolastico, le lezioni salvo cambiamenti cominceranno il 13 settembre. Da oggi all'ingresso degli istituti tutto il personale docente e di servizio deve dimostrare di avere la certificazione verde. Fondamentali i controlli che rappresentano un onere in più per le scuole. Al momento non ci sono particolari controindicazioni all'istituto Tito Acerbo, il preside Carlo Di Michele. Diciamo che non ci sono problemi particolari nel senso che noi li stiamo facendo in maniera ordinaria attraverso l'app specifica. Naturalmente siamo in attesa di questa piattaforma che il ministero dell'istruzione e della salute attiveranno per non dover ripetere questa operazione ogni mattina. Non abbiamo avuto finora casi di persone che si sono rifiutate di mostrare il Green Pass. Alcuni dei suoi colleghi hanno chiesto di differire l'inizio delle lezioni che è fissato per il prossimo 13 settembre. Lei di che avviso è? Io sono dell'avviso che dobbiamo chiarire bene il discorso degli ingressi e quindi del rapporto tra scuola e trasporti, che attualmente è ancora un po' incerto. Credo che il differimento è legato un po' alla necessità di chiarire questa situazione. Per me non è una priorità adesso, ma certamente se il raccordo con i trasporti non dovesse chiarirsi subito, questo sicuramente creerà dei problemi alle scuole. L'ideale è l'ingresso a scaglioni? L'ideale sarebbe l'ingresso tutti quanti alla stessa ora. Poi noi siamo disponibili a fare un ingresso diversificato, come abbiamo fatto in parte, in maniera diversa l'anno scorso. Due ingressi magari a distanza di un'ora l'uno dall'altro per evitare l'affollamento dei pullman. Gli studenti hanno l'obbligo di indossare la mascherina in ogni momento all'interno dell'istituto? Sì, all'interno dell'istituto dovranno indossare la mascherina, naturalmente all'aperto durante le attività di educazione fisica, questo non sarà richiesto. Diciamo così, Presidente, l'importante è che gli studenti, perché questo è un po' l'ospicio di tutti, anche dei genitori, ma degli stessi insegnanti, tornino a vivere la scuola in presenza. Abbiamo tutti scoperto in questi due anni quanto sia importante la presenza, perché il rapporto quotidiano, il contatto emotivo, fisico a volte tra i compagni e con gli insegnanti è fondamentale. La tecnologia si è rivelata molto utile, ma comunque crea una barriera, è comunque un ostacolo. Questa situazione ci chiede di cambiare, di trovare nuove strade più efficaci, più incisive per rispondere alle domande reali dei ragazzi.